tutto pesa un chilo molto bene cosa c'è cosa c'è dobbiamo pesare per sapere se dobbiamo darti da mangiare solido c'èmo e qua la mamma ancora col biberon quanto gliene stai dando adesso di latte fa vedere la medicina ok togliamo la bilancia via basta con la bilancia togliamo la bilancia alessio dai una mano adesso sono via si arriva però ti sporchi con la maglia lì no amore almeno con la maglia la mamma ha messo il grembiule non ti sporchi tutta la maglia no amore ti sporchi la maglia vai ti metti una maglia da lavoro adesso no no ti metti una maglia da lavoro non una maglia da casa bella qui lascia i peli perché di lui ci fa fare la punta la pipì e poi dai adesso prima gli dobbiamo dare quello lo svermifugo e poi gli diamo il biberon si beve quanti 60 millilitri di latte spiega bene perché susanna devi parare che poi tocca a lei e prossima volta tocca a susanna a susanna ehi 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 arriva biberon no 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 prima bisogna a dargli il coso. Ok, un appetito!